Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'appuntamento, che è questa rubrica di The Map Report con il quale noi facciamo conoscere coloro i quali si sono distinti e si distinguono nel mercato del lavoro, dell'impresa e dell'ambiente. Oggi siamo con Luca Guberti di Fattoria Globale. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato. Allora, Luca Guberti, partiamo da qua. Come e quando nasce innanzitutto la vostra impresa? Allora, la nostra impresa, che in realtà è un'idea prima di un'impresa, nasce un po' di tempo fa perché in un'occasione fortuita mi è capitato di accorgermi che non esisteva un contenitore, chiamiamolo così, che mettesse insieme tutto quello che è la produzione locale delle piccole e medie aziende che, diciamo, pullulano in Italia in qualsiasi tipo di ragione, mancava un contenitore che le raggruppasse e che le desse una mano ad avere quella visibilità che la piccola impresa, proprio perché essendo piccola impresa è formata da poche persone con poche risorse, non riesce a avere in termini di marketing, in termini di visibilità, in termini di attività commerciale, in termini di supporto alle vendite, logistica, tutta una serie di situazioni. C'erano una quantità molto elevata di piccoli siti, piccole vetrine, un tipo particolare di olio, una classificazione di vino, un tipo di pasta, ma un qualcosa che mettesse insieme tutte le referenze che vengono prodotte in Italia. In unica vetrina mancava e da lì è nata l'idea, famoso sistema binario, aspetto che qualcuno faccia o faccio in prima persona. Io ho scelto l'opzione B e quindi mi sono messo in gioco. Ecco, la tipologia di cliente vostro oggi, qual è esattamente e come intendete in qualche modo allargare l'impianto delle persone a cui rivolgervi? Allora, il cliente tipo è l'azienda agricola, il piccolo produttore o la piccola struttura, perché poi in realtà siamo partiti con l'idea del piccolo produttore, ma il piccolo produttore molte volte è piccolo produttore, virgola, ha un piccolo agriturismo, virgola, ha un macrointeressenza in un ristorante, è vicino ad un albergo, è inserito in un comune in cui l'assessore magari è particolarmente sensibile ad una problematica di vicinanza. E quindi si viene a creare quella rete che mette insieme il piccolo produttore con la realtà che lo circonda, gli si dà una visibilità in termini di supporto sia dal punto di vista logistico, commerciale, legale, ma anche di approccio al turismo, perché il turismo domani non potrà essere uguale a quello che c'era prima del Covid, perché sono aumentati i costi fissi e sono diminuite il numero di persone ospitabili. E quindi bisogna cercare un qualche cosa che collimi con l'interesse delle persone, che è la particolarità, e che porti a un menu costi sostenibile sia per chi lo paga sia per chi lo propone. A questo proposito, cioè a proposito fondamentalmente di soldi, di economia, che tipo di profittabilità c'è, a vostro giudizio, provando a ragionare in un periodo medio-lungo, quindi non nel breve? Che tipo di mercato si può produrre e che tipo quindi di profittabilità immaginate di poter ottenere? Allora, la profittabilità è un qualcosa che va di passo con la qualità. Prezzo, profittabilità, qualità sono ingredienti che non possono essere discrasici, ma devono essere collegati e collegabili. E partendo poi dal punto di vista che noi abbiamo una quantità enorme di queste piccole aziende, e abbiamo una quantità di 60 milioni di utenti solo in Italia, che mangiano tutti i giorni, che consumano tutti i giorni, una quota anche piccola di persone che si avvicina a questo tipo di situazione perché ha bisogno di qualità, indubbiamente la paga di più di un prodotto normale, ma non lo consuma tutti i giorni in quantità allucinanti. C'è la cena con gli amici, c'è l'occasione di fare un brindisi particolare, il piacere di gustarsi una pasta fatta in un modo diverso, l'opportunità di farsi un weekend in un buco, che in realtà è bello proprio perché è piccolo, proprio perché è distante, proprio perché è scomodo, tutto quello che è fuori dai canoni usuali, però quando sei lì stacchi, sei fuori dal mondo e prendi una boccata di salute, di relax, che poi ti basta un mese, quindi questo ti porta a riflettere su... il business plan prevede un ammortamento a quattro anni, che industrialmente... Tra l'altro Luca, perdona se ti interrompo, ma tra l'altro noi siamo il paese in cui, quando tu dicevi poco fa, mi organizzo e vado a mangiare un tipo di pasta fatto in modo diverso. Se io penso a quello che noi vediamo negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, dove il piatto di spaghetti mediamente è uno solo, mentre in Italia ne abbiamo decine di tipi diversi, quindi quello possiamo configurarlo come il nostro petrolio e lì dietro che si nasconde quella montagna di denaro che potenzialmente aziende come la sua fanno, possono fare. Noi dobbiamo prendere atto di quello che abbiamo e non possiamo inventarci quello che non abbiamo. Quindi noi non abbiamo le distese che hanno Stati Uniti, Russia, Australia, ma noi abbiamo una biodiversità che gli altri non hanno. E quindi noi abbiamo una quantità pazzesca di referenze che sono una più buona dell'altra. La più piccola delle regioni in Italia ha un numero di referenze superiore a quello di uno Stato grande in Europa. E quindi noi in certe categorie abbiamo l'80% della biodiversità mondiale. Cioè è incredibile e come dal punto di vista culturale, noi se facciamo un sillogismo da questo punto di vista e facciamo un copia e incolla in un altro settore, è esattamente la stessa cosa. Quindi noi possiamo decidere di cercare di competere in qualcosa che non abbiamo o cercare di sfruttare prima di tutto quello che abbiamo. Beh, le biodiversità noi le abbiamo tutte, non ci manca nulla. Possiamo costruire un qualcosa intorno a queste che sia un qualcosa di utile a noi, perché mangiamo tutti i giorni, che sia utile alla produzione perché il produttore più guadagna, più reinveste. E se non è un pazzo reinveste sul suo terreno e quindi il giorno dopo la qualità sarà a un livello ancora un pochettino più alto e via dicendo. E questo diventerà nel tempo una bandiera per il turista, perché ci sarà sempre il turista o la persona che ha tempo e ha voglia e ha una disponibilità per fare un qualcosa di bello. Quindi, diciamo, la vostra scommessa è una scommessa sull'e-commerce come modalità diversa per far fruire il meglio di quello che noi abbiamo e produciamo nel nostro paese? Allora, l'e-commerce è una piccola parte del processo. Allora, il processo si articola in un... Io al piccolo produttore devo dare visibilità perché non avrà mai mezzi per pagarsi la visibilità perché fa alto. Devo dargli una vetrina perché se devo andare all'estero, devo pubblicare o pubblicizzare un qualcosa in cui il cliente e l'utente non sono nello stesso punto, l'e-commerce è un strumento. Ma l'e-commerce a regime sarà circa il 10% delle vendite. Il 90% sarà la micro vendita di vicinanza. Cioè, ne pensiamo di aprire un centinaio di corner per provincia dislocati nei posti più particolari, un ufficio postale. Adesso ci hanno appena messo a disposizione sul Lago Maggiore un locale del comune, una chiatta che girerà il lago con i produttori e i turisti. L'hotel. Io vado a dormire in un hotel e se in camera ho un catalogo che mi illustra i prodotti di tutti i produttori che girano intorno a quell'hotel, è una vetrina quella. E probabilmente in quella vetrina io venderò molto di più che nell'e-commerce. Però l'e-commerce è una vetrina di distanza tecnologica. Però il business di tutti i giorni sarà il 90% in quello che una volta io e te siamo incontrati prima e parlavamo del vecchio negozio di quartiere. Quindi sostanzialmente noi dobbiamo avere la capacità di saper fare sistema, perché se noi valorizziamo le nostre capacità turistiche, la nostra capacità di dare ospitalità ai turisti e contestualmente forniamo loro una mappa di quelle che sono le nostre ricchezze agricole e non gastronomiche, probabilmente possiamo vincere la sfida a livello globale. Assolutamente sì. Noi abbiamo, dobbiamo, abbiamo l'obbligo morale di provarci, perché noi abbiamo ereditato qualcosa che non ha nessuno e quindi dobbiamo sfruttarlo. Facciamo l'esempio dei trulli in Puglia. Se uno dovesse guardare il trulli in Puglia, diceva, faccio fatica a venderlo, non è al mare, è all'interno, è caldo, non ci sono le strade, eppure gli stani li sono comprati tutti. Quindi o sono pazzi, o semplicemente queste persone cercano qualche cosa che noi abbiamo. E quindi però se noi non glielo diciamo che lo abbiamo, facciamo un po' fatica. Se noi non facciamo al modo che queste persone che sono interessate a questo, che se anche fossero l'1%, il 2%, ma il 1% è una cosa incredibile traducendola ai numeri assoluti, molto più alta del tutta la produzione locale del piccolo produttore, perché il piccolo produttore è piccolo perché produce poco. E quindi non produrrà mai quantità industriale di prodotto, perché non è quello il suo lavoro. Però produce un qualcosa che nel 99% dei casi è spettacolare. Le faccio un'ultima domanda, abbiamo sforato i dieci minuti classici, ma sono interessato proprio a questo meccanismo con cui si articola un nuovo modello di economia, che è un'economia che ha da un lato una responsabilità sociale e dall'altro una cura anche di quello che è il nostro ambiente, il nostro patrimonio storico, architettonico. Guberti, il post-Covid, la nostra capacità logistica e organizzativa, in questo momento ci sta penalizzando. Ovvero, se io devo prendere un aereo per andare in Sicilia, in questo momento, cioè in un momento in cui non abbiamo i numeri che avevamo prima, in cui la malattia è sotto controllo, in cui il virus si diffonde molto di meno e ha molta meno capacità, insomma, di fare vittime, per fortuna. Ciò malgrado noi abbiamo un sistema, per esempio, di aeroporti e di aerei che per portarci, per farci fare un tratto di mille chilometri, ci fa impazzire o sbaglia. Andare in Sicilia oggi è una faticaccia. Guarda, io sono Reduce da un lunedì e martedì a Palermo e quindi è stata veramente un'avventura, nel senso che ho dovuto comprare quattro voli per farne due. Ho dovuto comprare a biglietto a prezzo pieno, quindi circa tre volte il prezzo normale ed è stata un'avventura perché è tutto molto scomodo, tutto molto ridotto. E quindi in questo momento, diciamo che chi ha bisogno di logistica non è granché aiutato e supportato e quindi di conseguenza anche il piccolo produttore può trarre beneficio da quello che è il meccanismo di vendita di prossimità, di vicinanza e fatto salvo che tutto questo domani passerà perché non è pensabile che rimanga così, però non è probabilmente pensabile che si ritorni esattamente come prima. E quindi ci sarà la necessità di ammortizzare, di pensare al nuovo scenario e ai nuovi modelli che permettano di coniugare anche la distribuzione che non sia necessariamente un mass market al turismo che non sia necessariamente un turismo di massa, ma che si possa configurare per necessità economiche, di opportunità, di qualità o di contesto geografico, di logistica e il fatto che magari io e lei possiamo decidere che invece di andare al mare una settimana ci facciamo cinque giorni al mare e i due giorni andiamo dentro, andiamo all'interno, andiamo a mangiare tipico, andiamo a dormire tranquilli, rilassati, andiamo a farci un viaggio in un borgo che non vedremo più probabilmente, andiamo a parlare con chi fa l'artigiano lì da due generazioni e ci portiamo a casa una boccata di ossigeno che ci dà una carica per poter ricacciarci poi nel nostro mondo pieno di impegni, pieno di attività e pieno di tutto quello che ne consegue. Bene, io ringrazio Luca Guberti, ringrazio Fattoria Globale, ringrazio l'idea, l'idea che nasce, Luca, penso che tu sia d'accordo con me, da una bellezza unica che è quella del nostro paese e da una capacità unica da un punto di vista agroalimentare, penso ai nostri vini anche, da una capacità straordinaria di produrre bellezza e come diceva Dostoievski, la bellezza salverà il mondo. Questo tipo di economia, questo tipo di idea di impresa può non solo salvare ma distribuire ricchezza nel nostro paese. Io credo che tu sia d'accordo su questo Luca. È la base per cui, secondo cui è nato questo progetto. Tant'è vero che una caratteristica che lo contraddistingue e che è un dato anomalo è che il produttore sceglie il prezzo perché il produttore conosce il suo mestiere e nessuno più di lui può sapere cosa è giusto. E noi dobbiamo fidarci di chi fa questo da una vita perché è giusto così. Io mi fido di lei perché lei fa il giornalista, io no. Posso inventarmi di farlo, ma non lo sono. Non è la stessa cosa e non può essere la stessa cosa. E quindi è giusto così. E anche se pure nella mia categoria c'è chi si definisce giornalista e poi non si preglie. Comunque, grazie a Fattoria Globale e noi ci vediamo con il prossimo appuntamento. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie a tutti.